ciao a tutti nell'esercizio di oggi continuiamo a mettere in pratica quello che abbiamo appreso su particular e inoltre durante l'esercizio impareremo anche una cosa nuova su particular cioè come far nascere le particelle dalla superficie di un livello in modo che le particelle prendono proprio gli stessi colori del livello benissimo quindi per capirci meglio cominciamo subito col vedere quello che dobbiamo realizzare bene come vedete innanzitutto questa volta usiamo un formato diverso da quello che usiamo di solito anziché il classico 16 noni usiamo un formato quadrato adatto per esempio per presentare delle foto su instagram e in questo caso con particular creeremo queste transizioni fatte a macchia d'inchiostro usando come particella appunto una singola macchia d'inchiostro già animata e queste macchie d'inchiostro useremo sia come tendina tra una foto e l'altra sia come sfondo ai vari titoli che inseriremo sopra le fotografie inoltre useremo anche particular per far nascere delle particelle direttamente dalla superficie delle foto come vedete qua e le varie particelle prendono proprio i colori delle foto lì nel punto da dove nascono bene iniziamo per prima cosa il materiale per fare l'esercizio cioè le cinque fotografie e l'animazione della macchia d'inchiostro che vedete qua ovviamente le potete scaricare dal link che trovate nella pagina del tutorial e poi la importate in after effects come semplice footage allora incominciamo il video come avete visto è composto di cinque scene una per ogni foto e quindi incominciamo dalla prima scena quindi composition new composition chiamiamo appunto questa composizione scena 1 il formato come abbiamo detto è quadrato e in questi casi di solito il formato è 1080x1080 bene poi come durata della composizione ci servono 6 secondi e io come vedete li ho già impostati per cui do subito l'ok bene innanzitutto inseriamo la prima fotografia quindi prendo foto 1 e la metto nella timeline e la prima cosa che facciamo è appunto realizzare quella tendina fatta di macchie d'inchiostro che costruiremo appunto con particular la singola macchia che usiamo è questa qui macchia d'inchiostro diamogli un attimo un'occhiata che come vedete non è nient'altro appunto che una macchia d'incostro che si allarga e si accende benissimo quindi torniamo nella composizione come sappiamo per utilizzare questo elemento come particello dobbiamo inserirlo nella timeline quindi lo prendo lo aggiungo qui nella timeline e però facciamo sì che non sia visibile quindi gli spegniamo l'occhiolino qui a sinistra e ora aggiungiamo l'effetto particular quindi come sappiamo dobbiamo partire da un livello solido layer new solid nominiamo questo solido maschera foto perché lo useremo appunto come maschera di livello per far apparire la foto e a questo solido applichiamo appunto l'effetto particular quindi rg trap code particular come sappiamo all'inizio particolar si presenta sotto forma di sferette bianche ma la prima cosa che facciamo in questo caso è sostituire le sfere con le macchie d'inchiostro e quest'operazione la facciamo nella sezione particle dell'effetto quindi l'apriamo e in particle type sostituiamo le sfere con sprite che ci permette di mettere la particella che vogliamo noi ora dobbiamo collegare l'effetto con la macchia d'inchiostro quindi scendiamo in texture e al parametro layer dal menu a tendina associamo appunto la macchia d'inchiostro eccola qua e a questo punto eccole qua al posto delle sfere abbiamo le macchie d'inchiostro che al momento sono molto piccole quindi la prima cosa che facciamo direi di ingrandirle un bel po andiamo al parametro size alziamo il valore io direi sopra i 200 2 300 più o meno così e magari già che ci siamo inventiamo anche la size random così che le macchine non siano tutte quante della stessa grandezza più o meno così e soprattutto siccome vogliamo che tutte quante le copie delle particelle riproducano il video della macchia una volta sola partendo dall'inizio dobbiamo anche modificare l'impostazione di time sampling che al momento è impostata su random loop che significa che ogni particella riproduce in loop la particella senza smettere mai ma noi invece appunto come dicevo vogliamo l'opzione start at birth play once cioè comincia a riprodurre la particella dall'inizio cioè dal momento in cui si sta allargando e la riproduci una volta sola play once benissimo e quindi adesso tutte le particelle quando nascono hanno appunto l'animazione dell'ingrandimento e poi si fermano lì e siccome la macchia d'inchiostro originale come vedete qui nella timeline dura 6 secondi vogliamo che tutte le particelle durino 6 secondi ma al momento la loro vita è impostata come si vede qui live su 3 secondi e questo non va bene altrimenti le animazioni si interrompono a metà quindi dobbiamo impostare la live esattamente della stessa durata della particella originale che appunto dicevo è 6 secondi bene e ora vogliamo che nascano un po ovunque all'interno dell'inquadratura e non tutte quante dal centro quindi andiamo nella sezione emitter e come luogo di emissione anziché point come è impostato adesso impostiamo box appunto uno spazio molto più grande e in questo momento lo spazio come vedete ha questa dimensione qua 500 per 500 e questo valore è impostato nella sezione emitter size ma noi vogliamo soprattutto aumentare la larghezza e l'altezza quindi impostiamo x y e z individuali in modo che possiamo agire solo su larghezza e altezza e aumentiamo appunto la x almeno 1080 che è la larghezza della composizione e la stessa cosa la facciamo anche per la y in modo che si distribuiscono su tutta l'altezza della composizione benissimo come vedete ora le macchie d'inchiostro nascono a caso un po in tutti i punti dell'inquadratura però mi sembra che siano un po troppe quindi diminuiamo un poco il parametro particelle al secondo che al momento è su 100 io direi addirittura di dimezzarlo quindi imposto 50 proviamo sì direi che così è decisamente meglio c'è un po più di spazio tra una macchia e l'altra altra cosa che non vogliamo che le macchie d'inchiostro si muovano nell'inquadratura cioè vogliamo che rimangano ferme nel punto in cui nascono per far questo basta zerare la velocità iniziale che come vedete è a 100 ma noi la impostiamo a 0 bene un'ultima cosa al momento come vedete tutte le macchie sono orientate nella stessa direzione e io direi di far sì che ognuna sia orientata a caso in una direzione diversa per far questo basta che agiamo sul parametro rotation delle particelle quindi andiamo nella sezione particle rotation e aumentiamo il parametro random rotation io direi addirittura di portarlo al valore massimo che 100 e così facendo ogni macchia come vedete è orientata in un modo diverso perfetto ora questo insieme di macchie che riempie tutta quanta l'inquadratura lo vogliamo usare per far apparire la foto quindi questo livello innanzitutto si deve trovare sopra la fotografia e in questo caso ci siamo e alla fotografia che sta sotto dobbiamo attivare la funzione maschera di livello e questo come sappiamo lo facciamo dal menu che si trova nella colonna track matte e lo impostiamo su alfa matte se al momento nella vostra timeline non vedete questi comandi per attivarli basta che clicchiate sul pulsante in basso della timeline toggle switches mode benissimo come vedete adesso la foto appare un po per volta all'interno delle macchie d'inchiostro che si allargano bene ora vogliamo anche una copia di queste macchie però colorate che si vedano che anticipino un poco la tendina sulla fotografia cioè come vedete qua che facciano un po una cornice colorata alla tendina e per far ciò basta duplicare la maschera della fotografia spostarla sotto la foto e far sì che arrivi qualche fotogramma prima della tendina quindi seleziono maschera foto la duplico ctrl d il duplicato magari lo rinominiamo macchie colorate per prima cosa lo rendiamo visibile accendendo l'occhiolino qui a sinistra spostiamo il livello sotto la fotografia quindi qui e prendiamo la foto e la sua maschera e li ritardiamo di qualche frame all'incirca una decina di frame così come vedete abbiamo intorno a transizione le macchie in questo caso nere e noi vogliamo che le varie macchie siano di colori diversi e magari uguali ai colori di questa fotografia quindi innanzitutto selezioniamo macchie colorate e andiamo a cercare i parametri che gestiscono il colore delle particelle quindi scendo nella sezione particle vengo qui dove si parla di colore però come vedete tutti i parametri inerenti il colore sono grigi cioè non sono disponibili e questo succede perché noi stiamo usando la modalità sprite semplice che usa come colori delle particelle appunto il colore originale ma se noi modifichiamo questa impostazione da sprite a sprite fill allora in questo caso le particelle vengono subito ricolorate tutte quante di bianco noi non vogliamo che tutte quante siano dello stesso colore ma che siano tutte di colore diverso e per ottenere ciò andiamo al parametro set color e anziché lasciare l'impostazione di base at start impostiamo la terza opzione random from gradient così facendo ogni particella ha un colore a caso appartenente a un gradiente e questo gradiente lo gestiamo nella sezione color over life quindi innanzitutto direi di andare a impostare dalla sezione preset un preset un po più semplice magari il secondo che ha soltanto due punti colore poi ci mettiamo nella timeline in un momento in cui vediamo bene tutta quanta la fotografia e ora scegliamo per questo gradiente dei colori che appartengono alla fotografia quindi clicco sul primo punto colore si apre la palette prendo il contagocce che abbiamo qua e vado a campionare un colore della foto in questo caso direi di prendere un colore del cielo magari in questa zona qui quindi in questo caso un giallo magari lo facciamo leggermente più chiaro ecco qua e diamo l'ok come secondo colore all'altra estremità apriamo di nuovo la palette e magari possiamo prendere un azzurro verde qui sull'orizzonte magari questo qui e magari lo rendiamo anche leggermente più saturo ecco così diamo l'ok e direi anche di aggiungere un terzo colore quindi clicco qui a metà fra i due colori crea un terzo punto colore apro la palette e col contagocce magari questa volta prendiamo l'azzurro del mare circa così un filo un po più saturo e più chiaro benissimo vediamolo ok direi che questi tre colori possono anche bastare proviamo a dare un'occhiata adesso alle particelle come si sono colorate ce ne sono di gialle di azzurre e di blu benissimo adesso creiamo sempre con le stesse macchie colorate qui al centro una nuvola sulla quale poi andremo a scrivere il titolo quindi innanzitutto duplichiamo queste macchie colorate che abbiamo appena creato quindi le seleziono e control d il duplicato lo spostiamo sopra la fotografia e lo spostiamo avanti e lo facciamo iniziare dopo che è iniziata la tendina io dirai di spostarlo più o meno qui quindi incomincia ad apparire la foto e poi si aggiungono questo secondo gruppo di macchie colorate che ovviamente sono troppo grandi quindi andiamo subito a rimpicciolire andiamo nella sezione particle e size lo abbassiamo io direi intorno ai 90 100 penso che possa andare bene perfetto adesso riduciamo lo spazio all'interno del quale nascono le particelle quindi andiamo nella sezione emitter e stringiamo un po la larghezza emitter size x io direi intorno ai 500 600 e anche l'altezza io direi più o meno così al momento come vedete il gruppo è un po troppo squadrato appunto perché nascono all'interno del box magari in questo caso anziché box è più adatta la terza opzione cioè le facciamo nascere all'interno di una sfera in modo che il gruppo sia un po più rotondo benissimo e se per caso non ci piace come sono distribuite le macchie possiamo sempre intervenire sul parametro random seed che vedete qui nella sezione emitter e cambiare il valore a caso finché non troviamo una disposizione che ci piace per esempio in questo caso forse potrei cambiarlo così bene e adesso il titolo prendiamo lo strumento testo clicchiamo qui nella zona centrale e nel mio caso io scrivo motion e a capo graphics va bene magari la prima linea di testo cioè motion la rendo più scura quindi la seleziono prendo il contagocce e campiono il colore più scuro che c'è all'interno dell'immagine questo qui magari riduciamo anche un po la dimensione più o meno così bene nella timeline direi subito di trimmare il testo in modo che cominci insieme alla nuvola qui e chiaramente vogliamo che il testo sia visibile soltanto in presenza delle macchie colorate e non prima che la nuvola si sia creata quindi possiamo usare un'altra copia di queste macchie colorate come maschera di livello per far apparire la scritta quindi seleziono macchie colorate 2 lo duplico ctrl d il duplicato lo sposto sopra il testo magari lo rinomino anche maschera titolo perché questa è la sua funzione poi prendo in considerazione il testo e nella colonna track matte anche a lui attivo alfa matte in modo appunto che adesso il titolo appaia dentro le macchie colorate bene direi anche di spostare questo gruppo di livelli un poco più in alto nella composizione quindi li seleziono tutte e tre le macchie colorate il titolo della maschera e li sposto a mano un poco più in alto magari in questa zona qui benissimo e ora le particelle che nascono dalla fotografia quindi innanzitutto creiamo un nuovo solido layer new solid chiamiamo questo livello particelle foto e diamo l'ok applichiamoci subito l'effetto quindi effetti rg trap code particolar bene ora magari per concentrarci meglio sulla foto disattiviamo momentaneamente i livelli della nuvole del titolo quindi spengo un attimo macchie colorate e motion graphics e come dicevo all'inizio voglio che queste particelle nascano proprio direttamente dalla fotografia quindi andiamo nella sezione emitter e in emitter type anziché point usiamo una opzione che non avevamo mai provato fino ad oggi layer livello appunto in modo che le particelle nascono da un livello della timeline che vogliamo noi e per scegliere questo livello scendiamo più in basso nella sezione emitter dove si parla di layer emitter e qui abbiamo a disposizione un menu a tendina all'interno del quale possiamo associare il livello dal quale far nascere le particelle nel nostro caso il livello è foto 1 proviamo come vedete immediatamente particolar da un messaggio di errore cioè ci avvisa che il livello dal quale io voglio far nascere le particelle deve essere un livello 3d cioè deve avere quel pulsante a forma di cubetto acceso mentre nel nostro caso la fotografia è ancora un semplice livello 2d quindi diamo pure l'ok prima di andare a correggere la fotografia però resettiamo questo menu a tendina riportiamolo di nuovo su non adesso andiamo alla fotografia attiviamo gli altri comandi della timeline cliccando sul bottone toggle switches qua in basso e accendiamo appunto come dicevo prima il bottone del 3d che come sappiamo è questo qui a forma di cubetto ora possiamo tornare a particelle foto e di nuovo in layer emitter associamo il livello foto 1 adesso il messaggio di errore non c'è più e come vedete abbiamo delle particelle che hanno gli stessi colori della foto nel punto in cui nascono e le particelle nascono un po ovunque a caso all'interno della fotografia bene adesso prima di correggere meglio la disposizione delle particelle voglio solo farvi notare una cosa qui nella timeline cioè la presenza di questo livello luce che si chiama layer emitter foto 1 come vedete non influisce sulla scena perché è disattivato all'occhiolino spento questo livello luce serve soltanto a trap code particolar per orientarsi meglio all'interno dello spazio tridimensionale e assegnare le coordinate corrette all'emitter quindi noi lo ignoriamo completamente perché come dicevo appunto non influisce sulla luminosità della scena bene torniamo adesso alle particelle e come prima cosa direi di aumentare la quantità quindi in particelle al secondo aumentiamo e direi anche abbondantemente sopra i 2000 2004 2005 è sufficiente e poi non vogliamo che queste particelle si muovano a caso così in tutte le direzioni ma che invece vengano soltanto attratte verso l'alto dalla forza di gravità negativa quindi innanzitutto azzeriamogli la velocità iniziale quindi velocity 0 e per attrarle verso l'alto andiamo nella sezione physics e agiamo su gravity in questo caso la vogliamo negativa perché vogliamo che attragga le particelle verso l'alto io direi che meno 60 meno 70 può andar bene e ora le particelle come vedete sono attratte soltanto verso l'alto bene magari aggiungiamo anche un leggero vento verso destra quindi sempre in physics nella sezione air aumentiamo un po wind x non troppo direi tra i 20 e i 30 più o meno così e ora la dimensione delle particelle che mi sembrano un po troppo grandi quindi andiamo in particle size lo diminuirei a 3 più o meno come al solito aumentiamo un po anche la size random così abbiamo particelle grandi e piccole e soprattutto vogliamo che cambino dimensione durante la loro vita quindi andiamo in size over life e tra i preset disponibili qui a destra in questo caso userei il terzo questo che fa sì che le particelle nascano piccole diventino subito grande poi lentamente tornino piccole un po appunto come se evaporassero dalla superficie della fotografia bene e soprattutto vogliamo che queste particelle siano visibili soltanto quando è visibile la foto quindi innanzitutto allineiamo l'inizio di questo livello con l'inizio della fotografia cioè qua a 10 frame e in più siccome vogliamo che le particelle si vedano soltanto nei punti in cui si vede la foto dobbiamo ritagliarle con una maschera di livello uguale a quella che abbiamo usato sulla fotografia quindi seleziono maschera foto qui la duplico ctrl d e il duplicato lo usiamo per ritagliare le particelle foto quindi lo metto sopra le particelle foto riattivo i comandi delle maschere di livello e a particelle foto attivo alfa matte bene ora riaccendiamo i due livelli che avevamo spento prima cioè le macchie colorate della nuvola e il titolo e come ultima cosa voglio che tutto quello che si vede nella scena si ingrandisca lentamente un po come se ci fosse una zoomata su tutta quanta la scena e per farlo in questo caso possiamo usare un livello di aggiustamento con un effetto di trasformazione che ci permette di ingrandire tutti i livelli sottostanti quindi andiamo in layer new adjustment layer facciamo sì che questo livello di aggiustamento sia in cima a tutti quanti i livelli della fotografia e ci applichiamo l'effetto trasformazione quindi effetti distort transform e grazie ad esso aumentando il parametro scala possiamo come vedete ingrandire o rimpicciolire contemporaneamente tutti i livelli della scena quindi innanzitutto facciamo doppio clic sull'effetto in modo che i suoi parametri compaiano nella timeline poi portiamo il cursore al tempo zero accendiamo l'orologio di scale lasciando il valore a 100% andiamo sull'ultimo frame della composizione e aumentiamo questo valore di un po così è più che sufficiente benissimo adesso direi di riguardare tutto perfetto direi che ci siamo ora per avere la scena 2 possiamo duplicare la scena 1 sostituire la foto riadattare i colori delle macchie alla nuova fotografia e modificare ovviamente il titolo quindi torniamo nella finestra progetto selezioniamo scena 1 ctrl d la duplichiamo doppio clic su scena 2 l'apriamo nella timeline e la prima cosa che facciamo è sostituiamo la fotografia quindi seleziono foto 1 nella timeline prendiamo la foto 2 e la trasciniamo sopra foto 1 mantenendo il tasto alt premuto perfetto le particelle che nascono dalla foto come vedete ora si aggiornano su questa nuova foto quindi hanno i colori di questa foto anziché della foto numero 1 ora direi di modificare il titolo quindi seleziono motion graphics e al posto di motion io scrivo after effects e al posto di graphics tutorials magari la prima linea in questo caso la rimpicciolisco un po più o meno così direi che va bene e ora il colore delle macchie della nuvola centrale quindi selezioniamo le macchie colorate riattiviamo il controllo effetti scendiamo al gradiente dei colori e cambiamo i tre colori quindi apro la palette del primo punto colore e con il contagocce direi di prendere uno dei gialli della spiaggia per esempio questo come secondo colore magari un altro colore della sabbia un po più scuro magari questo qui e come terzo colore il blu del cielo per esempio questo qua perfetto magari cambiamo un po anche la disposizione delle macchie in modo che siano un po diverse da quelle della scena precedente e per farlo come sappiamo basta che modifichiamo a caso il parametro random seed magari così naturalmente se lo cambiamo alle macchie della nuvola dobbiamo anche cambiarlo alla maschera che fa apparire il titolo perché deve essere allineata appunto con le macchie sotto quindi questo 1040 dobbiamo anche applicarlo a maschera titolo quindi seleziono maschera titolo e anziché 1030 anche qui dobbiamo impostare 1040 appunto perché la maschera sul titolo sia appunto allineata con le macchie sottostanti bene adesso vogliamo gli stessi colori delle macchie anche durante la tendina sulla fotografia e per farlo è molto semplice riselezioniamo le macchie colorate andiamo ai parametri di colore e clicchiamo sul pulsante copy facendo così abbiamo praticamente memorizzato tutti i colori del gradiente poi selezioniamo le macchie colorate della tendina della fotografia questo livello qui e sempre nella sezione del gradiente colore clicchiamo sul pulsante paste cioè in colla e come vedete automaticamente gli stessi colori di prima me li ritrovo qui e quindi anche le macchie durante la tendina sono uguali a quelle della nuvola anche in questo caso direi di modificare la distribuzione delle macchine l'inquadratura in modo che non siano distribuite come quelle della scena 1 quindi andiamo al parametro random seed lo modifichiamo caso per esempio così 1010 e questo stesso valore come è successo per il titolo lo dobbiamo anche applicare alla maschera che taglia la foto e alla maschera che taglia le particelle che nascono dalla foto quindi seleziono la maschera che fa apparire la foto e il suo random seed lo metto a 1010 come vedete adesso la fotografia è di nuovo all'interno delle macchie colorate e lo stesso valore lo applico anche a livello maschera foto delle particelle lo metto a 1010 perfetto però direi anche di spostare il gruppo della nuvola del titolo un poco più in alto in modo da non nascondere la figura centrale della foto quindi seleziono macchie colorate il titolo è la sua maschera e li sposto appunto un po più in alto qui direi che va benissimo perfetto e adesso le altre tre scene per creare la scena 3 riduplichiamo di nuovo la scena 1 in modo che la disposizione delle particelle sia già diversa da quella della scena 2 senza bisogno di modificare i vari random seed quindi torniamo in project seleziono scena 1 ancora ctrl d apriamo scena 3 nella timeline sostituiamo la fotografia quindi seleziono foto 1 prendo la foto 3 col tasto alt la trascino sopra foto 1 modifichiamo il titolo al posto di motion io scrivo and trap code e al posto di graphics particular la prima linea la rimpicciolisco un po più o meno così e magari soltanto and lo rimpicciolisco ancora un po di più più o meno così spostiamo subito il gruppo nuvola titoli da un'altra parte magari in questo caso un po più a sinistra in alto qui e cambiamo i colori delle macchie colorate quindi seleziono macchie colorate riattivo controllo effetti e modifichiamo i tre colori apro il primo colore prendo il contagocce e magari prendo l'arancione rosa del cielo questo qui poi come secondo colore magari l'azzurro chiaro del cielo più o meno questo e come terzo colore il blu scuro delle nuvole più o meno questo e lo stesso colore lo vogliamo anche per la transizione quindi clicchiamo sul pulsante copy andiamo su macchie colorate e lo incolliamo cliccando sul pulsante paste perfetto e anche la foto 3 è sistemata e ora la scena 4 che otteniamo duplicando la scena 2 così che di nuovo le particelle sono disposte diversamente dalla precedente quindi seleziono scena 2 ctrl d doppio clic su scena 4 sostituzione della foto 2 con la foto 4 modifica del titolo al posto di after effects io scrivo follow on e al posto di tutorial youtube bene ora i colori quindi seleziono macchie colorate e nella sezione colori come primo colore col contagocce campioniamo il rosa rosso del cielo più o meno questo come secondo colore magari l'azzurro del fumogeno questo e come terzo colore il viola del cielo questo qua bene ora copiamo i colori clicchiamo sul tasto copy andiamo sulle macchie colorate della transizione e le incolliamo bene spostiamo il gruppo del titolo e della nuvola un poco più in alto a destra io direi più o meno qua e adesso l'ultima scena la 5 quindi torniamo in project duplichiamo di nuovo scena 1 ctrl d apriamo la scena 5 incominciamo a sostituire la foto benissimo cambiamo il titolo al posto di motion mg magari un po più grande tipo così e al posto di graphics tutorials benissimo ora i colori seleziono macchie colorate e come primo colore direi di campionare un arancione in questa zona come secondo colore un azzurro chiaro del cielo magari questo qui e come terzo colore magari un blu scuro tipo questo qua perfetto spostiamo il titolo un po più in alto più o meno in questa zona qui copiamo i colori quindi copy andiamo su macchie colorate e incolliamo paste e adesso creiamo la composizione finale dove mettiamo in fila tutte le scene quindi composition new composition la chiamiamo esercizio 18 finale e come durata gli diamo 20 secondi e diamo l'ok vogliamo che all'inizio prima che arrivi la prima foto ci sia uno sfondo bianco quindi aggiungiamo un solido bianco andiamo in layer new solid chiamiamolo sfondo colore bianco ok e adesso mettiamo in fila le scene quindi in project prendo la scena 1 poi più o meno ogni tre secondi e mezzo cambiamo scena quindi qui prendo la scena 2 e la faccio cominciare in questo momento qua perfetto poi avanziamo all'incirca 7 prendiamo la scena 3 e la facciamo cominciare qui poi andiamo a circa 10 e mezzo aggiungiamo la scena 4 all'incirca qua e poi l'ultima scena la facciamo cominciare a 14 in modo che arrivi giusta giusta fino a 20 secondi benissimo perfetto e ora la preview finale ottimo perfetto direi che ci siamo quindi l'esercizio di oggi finisce qua e ci vediamo alla prossima ciao